Nome? Mauro. Maria, ma mi chiamano Cristina. Michela. Umberto. Cognome? Piero. Ferrari. Pierulli. Prest. Quando avete deciso di candidarvi? L'11 aprile 2022, la storia ve la racconta Michela. Due giorni dopo il primo super open day in presenza post pandemia, il professor Ferrari è venuto nel mio laboratorio a Como e mi ha detto che intendeva iniziare questo lungo e affascinante viaggio e mi ha chiesto di essere la sua compagna di viaggio. E io ho detto sì e non me ne sono mai pentita. In occasione di una festa della donna di qualche tempo fa, un gruppo di studentesse mi ha chiesto che cosa ne pensassi delle donne ai vertici delle istituzioni private e pubbliche. Di getto ho risposto che le donne si qualificano per le loro competenze e non per l'appartenenza al genere. E da quel momento ho pensato, ho incominciato a riflettere sulla possibilità di candidarmi come rettrice ed ho pensato anche a chi potesse accompagnarmi in questa avventura. Il mio pensiero è andato immediatamente al professor Umberto Pierulli, l'ho cercato e io ho fatto la proposta. Che ne dici Umberto? La tua proposta mi ha lusingato. Perché? Perché abbiamo sempre avuto l'entusiasmo e la voglia di incidere sulla crescita del nostro Ateneo. Dopo 20 anni di attività di servizio ci sentiamo pronti per affrontare questa sfida. Perché lavoriamo in questo Ateneo da più di 20 anni e ne siamo orgogliosi? Perché lavoriamo insieme da 6 anni e ne siamo orgogliosi? Perché pensiamo che i valori che sono alla base del nostro modo di lavorare, trasparenza, inclusione, dialogo, spirito di servizio, siano i valori fondamentali per il futuro di questo Ateneo? Perché vorremmo che tra 6 anni questo Ateneo fosse in grado di anticipare e non rincorrere. Anticipare significa sviluppare progettualità, significa avere il coraggio di affrontare il futuro, ma soprattutto anticipare significa cercare di trasformare i sì ma in sì e. E questo è uno dei nostri sogni. L'Ateneo ha bisogno di una guida forte e determinata, ma anche sensibile e che abbia attenzione nei confronti di tutti, di tutte le persone, uomini e donne. L'opportunità di essere il vice di una donna brillante, dotata di indipendenza di giudizio, coerenza, integrità morale e che stimo profondamente mi onora. E per questo sono sicuro che riusciremo a garantire l'equilibrio di cui questo Ateneo ha bisogno. Di cosa vi occupate in università? Sono professore di logica matematica, mi occupo di ragionamento automatico e insegno nei corsi di automi e linguaggio e programmazione funzionale nel corso di laurea in informatica. Sono professoressa di diritto tributario e direttrice del Dipartimento di Eccellenza di Economia. Il mio ambito di studio di ricerca è, negli ultimi tempi, focalizzato sulle criptovalute, i criptoasset e gli accertamenti algoritmici. E negli ultimi mesi l'attenzione è in particolare sulla riforma fiscale che sta cambiando l'assetto normativo tributario italiano. Io sono un fisico sperimentale delle particelle elementari, cioè sono uno di quei fisici che disegnano gli occhiali per osservare la natura, capire come funziona e utilizzare quello che abbiamo capito per migliorare la vita di tutti quanti. Sono un chimico organico di sintesi e studio le metodologie di produzione di architetture molecolari per diversi impieghi. Mi sono occupato della sintesi di molecole attive nella terapia mirata dei tumori, ovvero di quei proiettili magici o magic bullet che riconoscono il loro obiettivo e permettono di raggiungere solo i tessuti malati. Quali sono gli interventi più urgenti su Busto Arsizio? Allestire con la strumentazione necessaria e inaugurare gli spazi dei mulini marzoli per rendere naturalmente più competitivo il polo scientifico e didattico di Busto Arsizio. Questo significa porre maggiore cura a didattica e a ricerca, a incrementare i servizi, intervenire sui collegamenti tenendo conto e sfruttando la vicinanza naturalmente con Malpensa. È importante estendere gli orari di apertura delle sedi garantendo la massima sicurezza a docenti e studenti. Sicuramente sistemare le sedi, aumentare i servizi agli studenti, programmare il futuro dello sviluppo della sede con gli enti del territorio di Busto. Busto Arsizio è una grande opportunità dell'Ateneo e quindi dobbiamo definire una strategia efficace per il suo sviluppo. Su Como bisogna sistemare le sedi, aumentare i servizi agli studenti e bisogna rinforzare i rapporti con il territorio. La città di Como ha le caratteristiche per diventare una città universitaria ma è necessario lavorare con gli enti del territorio e per questo è importante avere una persona di riferimento come Michela che già ha rapporti ed è riconosciuta dagli stakeholder come una referente autorevole dell'università. Inserire nel masterplan di Ateneo l'individuazione di un bar polifunzionale per la sede di Sant'Abbondio. Contestualmente costituire o trovare degli spazi adeguati per costruire una mesa nella zona di Valleggio per non dimenticare naturalmente l'aula magna sempre della zona di Valleggio che diventerà l'auditorium più importante di Como a servizio della comunità accademica ma anche della cittadinanza e della collettività. Tutto questo anche con la ristrutturazione evidentemente dell'edificio di via Castelnuovo che per molto tempo è rimasto chiuso e deve essere messo a servizio della comunità accademica. Dare via quanto prima alla costruzione del nuovo edificio in Bizzozzero destinato a nuove aule, alla mensa e alla biblioteca e risolvere con interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria le criticità che hanno creato così grandi disagi a tutta la comunità accademica. Penso all'assenza di riscaldamento o di rifrigerazione, al decoro dei bagni, alla necessità di una migliore cura dell'area verde e naturalmente ai parcheggi di cui tutti sentono una grande necessità. Non dobbiamo dimenticare anche la ristrutturazione, la necessità di portare, iniziare, portare a termine la ristrutturazione dell'ex chiesa che si trova in sede centrale nel rettorato, nell'ambito della quale potranno essere trovati degli spazi a favore di tutta la collettività. Su Varese bisogna migliorare le sedi, bisogna costruire perché abbiamo scarsezza di aule, dobbiamo aumentare i servizi agli studenti e anche qui è necessario ragionare con la città. Varese ha un campus bellissimo e verde che però va migliorato e per farlo bisogna lavorare con gli enti territoriali. Viste le ultime notizie, cosa pensate dell'attuale regolamento sulle tasse? Negli ultimi 4 anni il nostro Ateneo ha abbattuto del 7% il famoso rapporto fra tasse e FFO. Quindi è stato fatto molto, però bisogna fare interventi ulteriori, bisogna aumentare la soglia di esenzione ISEE, bisogna riallineare le tasse per gli studenti fuori corso e bisogna ragionare sugli studenti lavoratori. Abbiamo intenzione di rivedere il livello della no tax area, attualmente a 22.000 euro come previsto per legge e intenderemmo innalzarla a 25.000 euro come già hanno fatto altri Atenei. Vogliamo naturalmente proseguire contribuendo e aiutando e supportando gli studenti con borse di studio. Intendiamo poi costituire una commissione che si occupi delle problematiche degli studenti fuori sede, degli studenti fuori corso e naturalmente degli studenti lavoratori. Se doveste assegnare delle percentuali in termini di priorità a ricerca, didattica e terza missione, quali sarebbero e perché? 40% ricerca, 30% didattica e 30% terza missione. Il nostro obiettivo è raggiungere una ricerca di eccellenza che ci faccia riconoscere a livello nazionale ed internazionale e che quindi valorizzi la missione principale di noi docenti e ricercatori. Evidentemente questo ha delle ottime ricatute sulla qualità della didattica, che si focalizza sempre sul rapporto quotidiano con gli studenti e sulla terza missione la cosiddetta valorizzazione della conoscenza a favore della collettività, del territorio e della popolazione in generale. 40% alla ricerca, 30% alla didattica e 30% alla terza missione. La ragione è che la ricerca costituisce e costruisce la reputazione di un Ateneo e la reputazione di un Ateneo diventa la reputazione anche dei nostri laureati perché la ricerca, quando viene travasata nella didattica, permette di avere corsi di studio innovativi e attrattivi perché tramite il trasferimento tecnologico ha impatto sul territorio. Inoltre la ricerca attrae fondi e quindi permette di liberare risorse che possono essere investite sulla didattica e sulla terza missione. Mondo del lavoro. Cosa significa per voi rafforzare e potenziare i servizi di placement in Ateneo? Sicuramente bisogna rivedere il modello di placement. Bisogna pensare che è fondamentale iniziare le attività di placement sin dal primo anno e non aspettare l'ultimo anno perché dare agli studenti la possibilità di capire quali sono le opportunità li aiuta anche a costruire il loro percorso universitario e a costruirsi una prospettiva di vita. L'ufficio placement in Ateneo funziona molto bene. A testimonianza i dati di Alma Laurea che sono stati di recente pubblicati. Evidentemente possiamo sempre migliorare quindi potenziando i servizi di preselezione naturalmente degli studenti sulla base delle esigenze delle aziende favorendo una ulteriore e maggiore presentazione delle aziende maggiori contatti con le aziende del territorio sia di Varese sia di Busto sia di Como indispensabile è però creare un rapporto tra l'ufficio di placement di Ateneo e i dipartimenti. L'altro motivo per cui siamo finiti sui giornali recentemente è la fondazione. Che ne pensate? Penso che la fondazione sia un'opportunità per il nostro Ateneo se adeguatamente regolamentata. Dobbiamo rivedere il procedimento di costituzione della fondazione e poi individuare le attività che potrà svolgere a supporto dell'Ateneo. Penso al Public Engagement, alla terza missione e all'alta formazione. La fondazione è nata con il contributo economico dell'Ateneo ma per il suo funzionamento è necessario che sia in grado di raccogliere i fondi. Nel programma abbiamo detto chiaramente la fondazione è un'opportunità nel momento in cui crea rete sul territorio e porta a raccogliere fondi per l'Ateneo. Noi crediamo che sia necessario rivedere tutto il percorso di costituzione della fondazione e quindi rivedere gli atti fondativi per chiarezza nei confronti dell'Ateneo. Riteniamo che la fondazione sia fondamentale, che sia in grado di autosostenersi e che si doti di un apparato amministrativo proprio che sia indipendente da quello dell'Ateneo. Didattica blended, come e perché? La didattica blended è evidentemente diventato uno degli strumenti che abbiamo a disposizione per migliorare la qualità della didattica e non significa essere un Ateneo telematico se facciamo didattica blended. Il problema quindi non è se adottarla, ma come e dove adottarla. Bisogna fornire ai docenti la formazione per adottarla in modo efficace all'interno dei corsi di studio, bisogna fornire ai corsi di studio gli strumenti per valutare dove e come utilizzarla. Noi desideriamo integrare la modalità ordinaria di didattica con quella somministrata su piattaforma digitale. Questo ci consentirà di essere più concorrenziali rispetto agli Atenei limitrofi e naturalmente dovremo supportare i docenti tramite corsi di formazioni che potranno essere somministrati dal Teaching Learning Center. Il beneficio per gli studenti è una maggiore flessibilità nell'apprendimento e una migliore fruizione degli insegnamenti. Unico Ateneo Lombardo senza fontanelle. Cosa ne pensate? Investiamo sulla sostenibilità? Certamente investiamo sulla sostenibilità e ci mancherebbe altro. È una priorità per noi attivare le fontanelle in tutte le sedi e in tutti i poli dell'Ateneo ma è solo un inizio per una trasformazione sostenibile del nostro Ateneo. Bisogna avere maggiore cura del verde, attenzione per le energie rinnovabili. Dobbiamo favorire il trasporto meno inquinante e noi ci attiveremo in questo senso. La sostenibilità è un modo di pensare, di essere e di agire. Non deve essere necessariamente pensata come investimenti corposi perché ci sono tanti piccoli interventi che si possono fare. Negli ultimi anni il nostro Ateneo ha lavorato sulla sostenibilità ma bisogna fare molto. Il problema non sono solo le fontanelle ma bisogna anche pensare all'efficientamento energetico degli edifici, bisogna pensare ad un piano di gestione del verde, bisogna occuparsi dei problemi di mobilità tra le sedi e all'interno delle sedi. Un Ateneo moderno non può prescindere dall'affrontare il tema della sostenibilità. Il vostro libro preferito è Perché? Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Mi ha emozionato quando l'ho letto, ormai è riselente nel tempo, e perché è la protagonista, si caratterizza per la sua capacità di giudizio, per la sua brillante intelligenza, per la sua fermezza e determinazione. La fondazione di Isaac Asimov, perché l'ho letto sia le superiori e mi affascinò l'idea che la matematica potesse prevedere la storia e modificare la storia dell'evoluzione dell'umanità. È un libro che sicuramente ha aiutato a costruire la mia passione per la matematica e l'informatica e ogni tanto lo rileggo ancora. L'autobiografia di Barack Obama, una terra promessa. L'aspetto positivo della sua personalità consiste in un approccio ottimista, pragmatico e collaborativo. È l'insieme di queste caratteristiche che mi sembra importante per un progetto di crescita di una comunità. Chiedere a una fanatica della lettura qual è il libro preferito è un disastro, perché ne ho centinaia. Ma pensando al Viaggio bellissimo che stiamo facendo, sceglierei Mia nonna saluta e chiede scusa di Frederick Bachman. È la storia commovente di una nonna e della sua nipotina di sette anni Elsa, che è diversa, perché osserva in maniera diversa, pensa in maniera diversa, agisce in maniera diversa. È un libro sul diritto ad essere diversi. È un libro che ti insegna ad osservare gli altri con occhi diversi, perché allora li conoscerai veramente. È osservare te stesso con gli occhi diversi. Solo le persone diverse cambiano il mondo, dice la nonna nel libro. Le persone normali non hanno mai cambiato un accidente. Ecco, in questo momento, secondo me, questo libro è un augurio a me e Mauro di riuscire a disegnare una strada diversa. Dove e con chi andrete a festeggiare la vittoria? Andremo in pizzeria con la famiglia e con la squadra. Mauro ha già detto dove e con chi. Io aggiungo che festeggeremo in ogni caso, perché questo è stato un viaggio bellissimo. Abbiamo avuto il grande onore di ascoltare tantissime storie, abbiamo avuto il grande onore di raccontare la nostra visione del futuro dell'Ateneo e quindi sarà una festa in ogni caso. E Mauro, grazie per questa fantastica avventura. Se vinceremo, e questo dipende naturalmente dal consenso della collettività, festeggeremo in Ateneo con tutti. Se vinceremo, festeggeremo qui in Ateneo con tutta la comunità accademica. Grazie a tutti.